Noi continuiamo questi rapporti con personalità e temi di profilo internazionale perché ne diamo una priorità a uno. E quindi lunedì avrò un incontro con Abumazin che è qui a Roma per riprendere un po' il filo del ragionamento sul grande tema medio orientale e sulla questione israelo-palestinese. Avremo martedì un incontro con gli ambassiatori dell'Asia del sud-est asiatico la settimana scorsa abbiamo avuto un incontro con gli ambassiatori dell'America Latina devo dire molto interessante, significativo. Mercoledì sarò a Bruxelles e potrò incontrare Van Rompuy e Juncker per fare il punto anche lì sulle grandi questioni che non ho bisogno di sottolineare che riguardano la dimensione europea. Quindi per noi questo tema, lo sguardo internazionale è importantissimo corrisponde all'idea di un'Italia che esca dalle barzellette e riprenda un profilo, diciamo così, un profilo dignitoso dignitoso, confacente alle sue possibilità, al suo ruolo su tutti i grandi problemi mondiali.